amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp giorni di pioggia siamo inizio marzo sono tre giorni consecutivi che piove io sono venuto a pescare questa mattina e subito verso le sette c'è stata una prima partenza ma prima sigla buongiorno ragazzi oggi obbligatori back led quindi piombi tendifilo perché perché c'è corrente solitamente questo canale non c'è corrente e piatto ma oggi invece ci sono tronchi che si muovono alberelli che vediamo che vedo sulla superficie e quindi è obbligatorio l'utilizzo del back led vi ho già fatto vedere in un filmato precedente come utilizzarli e perché utilizzarli e quindi ve lo metto sia qui la miniatura e in descrizione trovate il video sono venuto questa mattina presto verso le 6 euro in pesca sono già due giorni che piove oggi è il terzo giorno che piove al momento è mezzogiorno e fortunatamente sembra si sia schiarito si stia schiarendo ma comunque le previsioni mettono pioggia anche nei giorni successivi quindi niente di buono sono riuscito a montare l'ombrellone in tempi brevissimi anche perché questo ombrellone qui si apre ed è pronto scongiurando quindi di bagnarmi come come un anatroccolo e calato le canne verso le 7 c'è stata la prima partenza partenza solita posta solito buco sto utilizzando però delle esche diverse ora sto utilizzando delle boilies dure delle hard della di boilies e anche delle su una canna sto utilizzando anche una dumbbell cose particolari però sono che più di una volta ho avuto una partenza a vuoto quindi sto studiando un pochino che cosa sto sbagliando sto utilizzando al momento dei terminali da 15 centimetri alcuni con del filato inguainato altri con il classico boom e il terzo con del nylon quindi non rigido come il boom ma in tutte e tre le canne ho avuto delle partenze a vuoto una si è proprio slamata e invece le altre due ho avuto proprio quel classico biribi e poi si lasciano li si slamano quindi devo capire che cosa che cosa è successo per sicurezza anche cambiato gli ami ho messo degli ami nuovi quindi affidatissimi ma non è cambiato nulla la prima carpa la carpa che ho preso la cattura che ho fatto l'ho presa qui sotto quindi la la lamata sembra sembra perfetta però un po' iniziale non vorrei che il terminale fosse troppo lungo per come stanno mangiando al momento o forse anche no non lo so sono considerazioni che devo fare o troppo lungo troppo corto devo provare altre misure eventualmente mettere un 20 e mettere un 12 centimetri a vedere che come come reagisce la carpa come se quei bip si trasformano in in allamate oppure solo pesce di disturbo vedremo vedremo prima partenza un po particolare nel senso che è partita ho fatto la prima l'inizio di ripresa poi mi si è scaricata la la gopro ancora c'è freddo e quindi la temperatura la batteria purtroppo resiste poco e non ho messo va bene quindi sono rimasto senza senza batteria comunque carpa indemoniata durante la cattura è girato di qua ha girato di là tant'è che ha preso su anche la seconda canna e quindi mi sono ritrovato con due canne fuori pesca fondamentalmente quindi tutto tutto aggrovigliato poi alla fine ho rimesso tutto in acqua comunque è successo un po un po di tutto con quella carpa di bella molto bella e adesso ve la faccio vedere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti eccoci ragazzi oggi piove non accenna a smettere partenza delle sette e mezza nel mattino questa carpa dire che è agitata e è stato faticosa portarla a guadine a guadino e dire poco è riuscita ad aggrovigliare anche la seconda canna così mi sono si è portata in giro praticamente due canne però ne è valsa veramente la pena bene ora ragazzi vi faccio vedere questo splendore perché è super super combattiva mi sono divertito veramente tanto bella tozza bella 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 eccola ragazzi a voi è splendida oh sta anche calma adesso bellissima ora subito in acqua che ha fatto il suo lavoro sarà stremata direi che la pioggia oggi non ci abbandona mai ma noi ne prendiamo lo stesso questa combattente vediamo ora come se la cava eccola 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 che respira via è andata bene ragazzi è andata ragazzi che dire è bella carpa bella carpa poteva andare meglio poteva andare meglio perché purtroppo ho avuto appunto una slamata delle partenze a vuoto quindi si spera sempre di fare meglio ehm studierò la prossima volta dei terminali diversi in maniera tale che eh capiremo se era questione di terminale o era oggi che essendo piovuto e tutto le carpe sono un po' strane prossima volta molto probabilmente non sarò in questo spot ma in uno spot diverso ma comunque e eh vi parlerò di alcune esche nuove ma comunque ragazzi se siete appassionati di carfishing come me questo è il vostro canale quindi iscrivetevi attivate la campanella in maniera tale che sarete sempre aggiornati sugli ultimi video ogni venerdì alle 18 un nuovo video e la prossima ciao